Buono. Buono. Italiano. Italiano. Ok. Che mi accompagna all'aeroporto, abbiamo discusso il prezzo, abbiamo raggiunto un compromesso, lui voleva 15 euro, poi siamo arrivati a 10 e a 12 con la mancia. Bene, bene. Buongiorno. Obrigado Casazzo, molto obrigado. E ora di mettersi in viaggio, un'altra volta dopo un mese di relax qui a Capoverde è stata una vacanza nel viaggio. Capoverde è un posto fantastico, mi sono rilassato veramente, spiaggia, sole, la gente molto ospitale, molto cordiale. Peccato che non so parlare bene il portoghese, anzi non lo parlo affatto e lo spagnolo che non serve più di tanto. Mi sono ingegnato a fare un corso online di portoghese e comunque le basi indispensabili me le so cavare. Buongiorno. 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 Ora è il momento di fare un volto, andare in un'altra parte del mondo, per viaggiare, per scoprire molti paesi. È stato molto bello qui a Capoverde per un mese. Il sole, la piazza, le persone sono molto bello, le persone gentili. il problema era un po' il portoghese, ma ho parlato spagnolo e a volte è utile di parlare spagnolo. Ma ho scoperto che in YouTube c'era una classe di portoghese, quindi ho studiato un po' il portoghese solo per parlare il minimo necessario. Allora andiamo a un'altra parte del mondo. Ciao, ci vediamo in breve. Furio!